Sì, è molto probabile che sia arrabbiato per Matt. Allora, aspetta, facciamo il coso di ghiaccio. Dove sei? Spacco la faccia io, sono mica tanto simpatico. Merda. Ho sprecato la mia scarica per nulla. Preso. E ora beccati questo. Quadrato? No, triangolo secondo me. Quadrato, avevo indovinato subito. X. Ecco fatto. Assorbito. Ottimo. Mi sento diverso. Mi sento più potente ora. La pedana. Non mi ricordavo si sbloccasse così subito appena rientrato. Ottimo. Minchia, poverino. La pedata è uno di quei pochi purtroppo potenziamenti che non uso spesso. Perché non lo trovo così utile purtroppo. Cioè, è utile sì, per carità. Ma non... Non è a livello di molte altre abilità che ci sono nel gioco. Ecco fatto. Qualche nemico grosso? Ovviamente. Sì. Usiamo questo, dai. Anzi no, usiamo questo. E dai! Quanto poco! Vieni qui. Distrutto? Ah. Morto. Ecco fatto. Grazie dei soldi anche. Grazie. Pedata al guardiano. 4.000 dollari. Così a gratis. Punti esperienza. Non ho neanche iniziato l'episodio e subito guarda. Premi. Premi come se piovessero. Hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Saint Troc 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la liberazione di Matt Miller e la sua nuova forma. Il super amico, Nightfall. Mentre oggi invece abbiamo delle letture anomale. A 200-500 metri da qua. Prima però cambiamoci di abito. Direi che il vestito per oggi ce l'abbiamo. Super power fight club. Yes. Facciamo botte. Chissà chi sono quei cattivi però eh. Vestiti di giallo. Eh lo so che più veloce lo fai meglio è. Chi è il nostro primo avversario? Mi sembra di averlo già visto. Per fortuna ho già aumentato i danni degli attacchi fisici. Forza combattiamo. Vieni qui. Mamma mia. Questa sezione qua con i danni da sfondamento è una cavolata da fare. La frantumazione che è sfondamento. Sfondamento non c'entrava proprio nulla. Vieni qui. Distrutto. Che è anche facile usare per esempio come si chiama? Quello esplosivo va. Quello esplosivo. Quello esplosivo veramente era una cavolata a prescindere. Questi bruciano quindi fanno male. Vieni qui. Uh qualcuno si è appena raffreddato. Vieni qui. Addio. Dove sei? Aspetta dovrei avere? No non ce l'ho. Non ce l'ho ancora quello elettrico. Peccato devo ancora farlo allora. Vieni qua. Addio. Vediamo se si fa male. Ah è ancora vivo. Ora non più. Due. Uno. Aia che dolore. Allora fermi tutti. Dove sei? Dio mio. Ti prendo. A palle in faccia. Cretino. Letteralmente. Ti sto uccidendo. Dove sei? A colpi di bullying. Vieni qua. Ah. Ai. Dolore. Male. Finisher. Aia. E mi costale. Dagliene ancora uno. Ti sta bene. Fight Club. Completata. Quanto? Cinque minuti e trentotto rimasti. Cinque mila settecento. Un po' di esperienza. Beh dai. Non è andata male. Fight Club. Nella simulazione. In altre simulazioni ci sono personaggi come Julius. Poi. Chi altro c'era? Non mi ricordo. Sai che ti dico? Se ne troviamo un'altra. La facciamo subito. Eccolo qui. Un Fight Club di livello difficile addirittura. Ecco qua il prossimo Fight Club. Vediamo chi è il prossimo nemico. Oh. Junichi. Non mi ricordavo ci fosse anche lui effettivamente. Minchia. Vieni qua tu. Che dolore. Aia. Dropkick. No. Dove vai? Ecco fatto. Il prossimo. No. Dove vai? Ecco fatto. Giusto suono. King of the hill. Devo mantenere la posizione. Mi spacco la faccia a tutti voi King. Aia. Porca. Ecco fatto. Facile. Che dolore metafisico. E anche un po' metamentale. Vieni qua. Dov'è? Non le vedo. Ma porca miseria. Non scappare. Ecco fatto. Prossima wave. Junichi. Sei già arrivato Junichi. Non avrò pietà. Aia. Aia. Ma stai buono. Junichi. Dove scappare. Stai buono. Aia. E ma porca. Ehi. Ehi. Sta combo incredibile che non finiva più. Ecco. Bravo. Spezzagli il collo. Madonna mia. Antipatico che sei. Mi avrei preferito un combattimento con le spalle. E' un successo. E' un super power fight club. Tutuccia. Fight club completata. Con 5 minuti rimasti. E' stato un combattimento esemplare. E siamo saliti di livello. Quindi signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.